E' la vigilia della seconda di campionato e i rosso-blu vanno in terra toscana con tanta fiducia, con fischio d'inizio alle ore 15, l'Aquila sfiderà l'Arezzo. Perrone ha scelto il 4-3-3, Zandrini tre pali, Di Mercurio, Anderson, Maccarrone, Piven, difesa, Benzaia, De Francesco, Manuel Mancini, Mediana, San Domenico, De Sosa e Andrea Mancini in attacco. Le opzioni potrebbero essere Bigoni per Di Mercurio, non al meglio nel ruolo di terzino, e Triarico per Andrea Mancini, mentre appare difficile l'utilizzo dal primo minuto della difesa a tre. Cambia anche Eziolino Capuano, tecnico dell'Arezzo. Non più 3-5-1-1, ovvero il marchio di fabbrica, ma il 4-3-1-2, come nel secondo tempo di Sant'Arcangelo. Tremolada dovrebbe agire alle spalle di Gori e Defendi. In Coppa, un mese fa, circa, finì 2-0 per l'Aquila. Allora in rete andarono Claudio De Sosa e Sanni, che domani partirà dalla panchina.